Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in una intervista radiofonica dice un anno tosto, delle mie questioni personali si è parlato senza pietà ma combatto o l'elmetto, dice. Non so perché la sinistra contesti l'accordo con l'Albania, forse perché sperano che non risolviamo il problema dei migranti. L'accordo sull'Albania ne abbiamo già parlato alcune volte, insomma. E così la Meloni con la cuffia, ARTL-102-5, parla per la prima volta della separazione da Ciuffetto-Gianbruno. Beh, chiedono a la Meloni se si è parlato troppo di questo signore, di questo Elvis di Rete4, e lei dice si è parlato delle volte senza pietà delle mie questioni personali ma elmetto in testa e combattiamo senza pietà. La stessa espressione che la leader della destra aveva usato con i giornalisti che le chiedevano un'intervista nei giorni delle furibonde polemiche innescate dai fuorionda di Ciuffetto a Mediaset. Meloni ha detto giuro che non parlerò mai più e così è stato fino ad oggi, fino al 6 di dicembre. e chiedono gli intervistatori lei, Presidente, ha molti segreti dice, beh, insomma me ne sono rimasti pochi la mia vita ormai è tutta in piazza e, cara Presidente quando si è capi del governo a capo del governo come anche quando si è un attore famoso la vita personale che dovrebbe essere garantita la privacy non c'è più perché tutto viene in piazza questo è il risvolto della medaglia di essere una persona conosciuta o importante politica, potente questo è il risvolto della medaglia definisce l'anno che sta per finire tosto e rivendica compattezza e serietà del governo su PNRR salario minimo migranti in Albania Europa manovra patto di stabilità salario minimo parla di salario minimo perché rivendica un salario minimo del governo c'è nei video precedenti vi consiglio di vedere i due video precedenti a questi si parla del salario minimo approvato non definitivamente ma comunque è in approvazione cancellato quello proposto dal PD e dei 5 Stelle e c'è un altro salario minimo quindi la Meloni rivendica anche il salario minimo anche se le opposizioni gridano che è stato cancellato omettendo che ce n'è un altro in approvazione del governo e lei dice che effetto le fa essere la quarta donna più potente del mondo lei dice figuriamoci come siamo messi non ho capito la risposta comunque dice il salario minimo la bagara alla camera un po' sorrido 5 Stelle e PD ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'hanno fatta e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano contratti con poco più di 5 euro allora come è accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata bisognerebbe essere un po' coerenti bene questo ve lo sto ripetendo da giorni giusto? quante volte vi ho parlato del sindacato facendovi anche con la mano 5 euro lordi contratto della sicurezza privata cos'è la sicurezza privata? come si chiamano? le guardie giurate come vengono comunemente chiamate le guardie giurate poi magari c'è un nome diverso che io non conosco sapete che oggi col politicamente corretto se dai se chiami un lavoro come non come non deve essere chiamato il politicamente corretto ti dice che sei una specie di mostro un insensibile ecco quindi sapete che il politicamente corretto ha cambiato i nomi dei lavori lo spazzino diventa operatore ecologico l'infermiere diventa se non sbaglio il collaboratore sanitario il bidello diventa il collaboratore scolastico ecco insomma l'ipocrisia cambiare il nome perché sembri un'altra cosa vabbè politicamente corretto ne abbiamo parlato quindi sicurezza privata contratto a 5 euro l'ora e poi gridano che vogliono il salario minimo la meloni dice ma un po' di coerenza nel senso mi vai in piazza a gridare salario minimo sbraiti e poi tu rinnovi i contratti a 5 euro l'ora 5 non 10 8 c'eravamo quasi tra 8 e 9 5 euro lordi roba che farebbe ridere anche nel terzo mondo parlando poi dell'accordo con l'albania meloni lo definisce innovativo utile può anche rappresentare un precedente se riusciamo a farlo funzionare bene ed è nel pieno rispetto del diritto europeo non so perché la sinistra contesti l'accordo penso perché sperano che noi non risolviamo il problema e poi parla di altre cose il caso Giulia e sul caso Giulia poi faccio un video proprio su questo perché la meloni parla di covid e caso Giulia voi direte che c'entra lo vedremo per quanto riguarda la tenuta del centrodestra la meloni dice il centrodestra sta molto bene grazie al di là di tutte le ricostruzioni che leggiamo ogni giorno c'è un metro solo per valutare la coesione di un governo la velocità questo governo lavora velocemente ho visto governi impantanati per mesi questo a noi non accade ed è la dimostrazione di una coesione di fondo una grande occasione nel Parlamento europeo potremmo trovarci con un'Italia che conta molto di più e poi parla del premierato che in realtà il premierato è un modo di dire viene chiamato il premierato ma si indica l'elezione diretta del capo del governo sapete ve l'ho raccontato tante volte il premierato è un'altra cosa è un'altra cosa oggi tutti i giornali parlano del premierato ma non è il premierato l'elezione del premier non è il premierato il premierato è quando tutti i poteri del capo dello stato passano al capo del governo quello è il premierato quindi non c'entra niente però tutti chiedono il premierato di qui il premierato di là ma la sostanza è un'altra con lo scontro con la magistratura la Meloni dice si cerca di costruire scontro si cerca di costruire scontro tra politica e magistratura io non vedo nessuno scontro insomma diciamo che c'è ma diciamo che non c'è eh quando lo dico io quando lo dico io va bene grazie a tutti e arrivederci a presto